...tei udemma, po' ci... po' bi ua cosa, anna riusaici po' bi sudraggio, traggio, sudraio, oi nai lo stile de dognuno, paolo c'è da, si doi donai udemma a questo spiccioccus vabbè incommenzau su? Iscambiamente su d'empus, che cosa bofai e semprus, u teguso, no mi lamento d'estepus o cambiamento, d'usbideus udoni a ti adesigastighe deus udoni a ti, d'usubideus ma' un totugus d'azicanià, in costumundu go' noto, ma' un sa'zicanià doto dunnaru de menti frima, k'i gistionau de su grima vini sa'zicanià, rinverda essa campagna in lo gughido tu sperdada, essa campagna rinverda questa campagna rinverda, ma' essa campagna rinverda che a capote, che a malietta, cambia tempo e su boeta segui su 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 esempio, su boeta cambia tempo e deon con cambiando voto ma' che a malietta, capote, che veron, che peron su d'empugasau cosa me da salasau, es dindada torra i xedas salasau goza, me da ma' deshistoria dichosa me da salasau goza benza su d'empur romano cavò nos estetio dràgico manci deneus su di... manci deneus su nu ràgico ma' che possa amore deus su nu ràgico deneus su dottua porta de mano senza andai a su romano ma' che a capote, che a malietta cambia tempo su boeta de su grima vai se zempo cambia su boeta cambia da ma' deon con cambiando voto ma' che a malietta, che a capote la gasu d'empugasau goza me da salasau erguindio i torra i xedas salasau goza me da ma' deshistoria dichosa salasau me da goza e su romano sa gloria che friazza e si storia de su d'empur romano d'empur romano d'empur romano d'empur romano d'empur romano d'empur romano po' nos estetio dràgico manci deneus su nu ràgico a eques amore deus su nu ràgico deneus su nu ràgico deneus che a esamore deus bono son papà su denpo su denpo che è passato su denpo passato giusto su denpo passato e su villasso su denpo de me pili e sul giasso e sa tristesa dessa spesa che va su de vita ad ogni a di ci chiede debattare lai ci chiede graivo per riportare noas poi tagli di goas ben azute su soli tocca da traballare una dica mentre burrico de moli e aspettare una dica di vacanza fu su denpo su tanti e tanti in latitanza azute na balia azute na marra su denpo chavarra è sempre più spago deo mi drago troppo su traballo il sulletto e tutto usciti su solito uvetto su bottoni cintro buco e in goni mi grocco e poi sterio che non c'è da un rai solito a petto chi venga da un'altra dì ma su denpo è sempre con i bussendi a petendimi sagrai il giorno a botto ma non riesci a ripentare è difficile questo denpo si fai su di noi quando uno tennis e dei voti girai e quando parla con te che uno vittura ricorda quando il siesta giocaio a pallone su stradoni e moglie sta buona ripendo una canzone ma non diventi vai ma come i tanti del palco che il palco ci cote bollare con un sacco a spillonca che stendi di pizzo e torna a pensare a sinizio quando venia in sul 93 19 anni e pago bruso in santo né jesuso né nessuno mi fermata fu di questa guitarra l'unica cosa che mi rendia da sua vita preciata mi datuiamo ancora a pigare un subletto che nel centro mi tendiamo a un rei fu di questo tempo che mi fai griglia che mi fai bì e me saia sempre esprimando in me fei molti tempi e non ti denia fei molti tempi fu avrei renditi saia finza il strato e babbo viene raro a biciocchetto e noi sul ladro e cominciando a spacciare tocca da crubare la schiena di buona traballare ma con questo tempo si vengono degli antenti e io sempre pensai su essi cantanti chi si gita con questo cazzo e cani ci davanti a questionare e se non penso che non da capo a cantare e cantare e a me mi trova fisso con il mondo ma adesso non è non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno e non c'è nessuno e non c'è nessuno beh ci manca il suo rap potessi continuare comunque facciamo una rendita che referendo a biciocchetto deseggata a essere musicista dopo questo mese vista questa cosa da perché stiamo in domo ma babbo mi ha narrato a curicare il mio dottorono biciocchetto tu devi andare a fare il suo dottore o studiare oppure a contenenti a traballare ma teo puscerà fu dei rotevoli difficili ma teo teniamo queste convinzioni voglio fare molti queste canzoni improvvisazioni andai a vedere la gente essi sempre coerenti con questa idea ma mamma non voleva il sabore mi ha narrato a biciocchetto per sentire torrenciadomo ma teo scriva e non uscìa intanto vai salti dovevi su manovali non mi è andata mai devo tenere sempre un'altra idea e fu questo tempo sempre a sabato mia mi ha narrato a biciocchetto stesse sbagliando la sua università di l'agate sta mettendo ma fin se questo tempo quando veniva già il 24 devo andare lontano lontano del subminarante quattro quattro c'era buvata strategiai e pagapago mi sono pesato come tu non trago chiedi la pampa del volo il reverendo fatto gioco e pagapago e comencei a entrare e mi sprazzasla e mancai di smazzasla anche io che tu vabbai c'è un ruolo che se fosse sonnare invece c'era buvata si arrivao che si arrivao mancai faccio una vita a volte si ha descrauto e poi mi trovo in genuco vai salti di pazzo però torno a dormo sempre con questo coro con il suo brazzo stretto breve amore poi fai questa vita questa musica madonna il suo calore è giusto e ora in questo luogo che non è in fusto sicco di sardinia riferendo scidica frutta di segaccio del pago ma dirò ancora questo carro che non trago forse non riuscivo ora che è bene io e ora è entrato il tempo forse ti serrai ma riferendo sì che non hai sui tempi non basta mai tengo una villa di quattro anni sei meso e tengo sempre il suo pensiero sospeso visto da che alcuna cosa di bozza ti mancai inzando quando do raffurriare ad un uomo cinque ore su cuore mio chi ha fatto bene il suo ruolo del pappo e non accabo mai per dimmi po' villa mia poi tanto tempo leggo sui mamma mia sui tempi mio forse dopo già il bifio ma sui tempi mia ancora del più bene e quindi su dei tempi sempre al menti su chi sa e poi mei mi fai di crei ancora su chi faccio e spero su 2022 di questo cazzo pandemia non ci sia da bruso grazie 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 e sicuro fai un rap a sua moda del reverendo ecco provo dai poi tanto da sei con gruzzo e vai chi è che cammina in gruzzo quando cazzo non ti sapete che ragazzi che fai se non è raro che il reverendo se non ti senti e se non ti senti in grano in grano se ne senti se non si senti tutti fatti che ci senti che ha fatto cazzo è fatta in modo mio, è che è destrappato, che è in repentina d'avviso, è fatta all'improvviso, sul modo è così, è sempre preciso, ma che non sia del lusso, è sempre preciso, è così, però chi dà patessi è pure da gradessi, mi sono certo e sicuro, chi dà patessi pure che d'avviso come in stima, quittà che bonzo rimma, e se è pure un fraconzo, quittà che rimma bonzo, d'avviso all'improvviso. Sui stili è preciso, Deus è pure un miglio, è preciso sui stili, però non renda sa lega, che non Paolo collega, che questo è sabio che sa, che non con il suo collega Paolo, di scambiamento del suo tempo, un tipo che ha sempre esemplato, e non lo sallogato, esemplato, un tipo che ha esemplato, del suo tempo benedore, e tra questi suoi valori, cosa devo da graderci, sui valori tra questi, non sono ma co-dossi Deus, in chi dei figli in Deus, in chi ma co-dossi, in chi Deus dei figli, anche se invoca lo su 죄 nonượng aveva, creju sui destini, i turisti che lotte, sui destini creju, tu alzori e mandiressa, con loro sorrisosogene, se sap avete dovuto sono del dito, se possano di arrivare, se posso asc Beach, queste ore se dalle 2, non mi lasciano stare con il figlio, è così di workista. Questa è un retto repentino, è vero. Per esempio, se chiedete sui botaosumenti, sui noi presenti, è l'antica tradizione, sui presenti noi ci causa la battaglia innante, però sui esti importanti, non è l'antica bestia, sui importanti esti, ma se la gente chiede noi, che noi presenti, che noi presenti, importa questa gente. Questo gli dà aggiornare, dovete desardare, pensavo in questo scritto, desardare dovete, maestro ha integro, ha integro, e su nostro tesoro, e tutta ogni agosto, ha integro il nostro, lo deve appoderare. E questo è equivale, io so di nuovo, il reverendo, e noi questo confronto... Ecco, eh, va, va bene. Prendiamoci il gusto, va bene. Prendiamo questo, dell'applauso, bravo. Grazie.